Impossibile dire se sia stata toccata la magnitudo massima anche se l'intensità di questa scossa ci preoccupa. Lo dicono gli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a chi chiede loro oggi cosa accadrà domani, se la gente del Pollino potrà dormire sonni tranquilli dopo la forte scossa dell'alba o dovrà continuare a dormire per strada dopo due anni e più di duemila scosse. Timore ma anche necessaria cautela da parte dell'Istituto, fiore all'occhiello della ricerca italiana, prudenza espressa già altre volte dopo eventi sismici simili a questo, parole sostenute dalla scienza tante volte ascoltate e che però risentite oggi fanno un altro effetto. A pochi giorni dalla storica e discussa sentenza pronunciata dal Tribunale dell'Aquila che ha condannato a sei anni gli esperti della Grandi Rischi, colpevoli di essersi riuniti e di non aver allertato, anzi di aver minimizzato i rischi del terremoto dell'Aquila. Il Consiglio dei Ministri ha deciso oggi di chiedere il ritiro delle dimissioni dei membri della Commissione. Se la protezione civile ci convocasse risponderemo, dicono loro. E intanto delle ultime ore prima del sisma abruzzese, di quelle immediatamente successive, si continua a discutere oggi a tre anni di distanza. Noi eravamo preoccupati, ribadisce l'allora capo dell'Istituto di Vulcanologia Enzo Boschi, che poi attacca Guido Bertolaso, con lui in cui frangenti ebbi scontri durissimi, ma comandava e decideva lui e alla fine ci impose il silenzio. Boschi, due giorni dopo il sisma, inviò all'ex capo della protezione civile e una relazione in cui si dicevano probabili nuove forti scosse in Abruzzo. Bertolaso chiamò Boschi, intimandoli di non creare allarme. Fate un comunicato con le solite cose, ordinò Bertolaso. La verità vera della situazione non si dice.